Le fonti luminose possono essere accese o spente, ma non solo. Possono anche essere controllate in modo intelligente. Per una maggiore sicurezza negli edifici e attorno a essi, per valorizzarne in modo automatico l'estetica, per un maggior conforto e per risparmiare energia, è necessario collegare in modo intelligente illuminazione e sistemi di comando e BEGA ha sviluppato un sistema di illuminazione che coniuga questi due aspetti. Si chiama BEGA Control. Esso trova applicazione soprattutto sulle strade, ad esempio sulle piste ciclabili, che richiedono un'illuminazione adeguata. Tuttavia, non è necessaria un'illuminazione completa per tutta la notte e BEGA Control consente di controllarla in modo intelligente. Durante la notte, attraverso la funzione dimmer, la luminosità degli apparecchi è attenuata a circa 20%. Se si avvicina un pedone o un ciclista, la sua presenza viene registrata e il tratto di strada si illumina immediatamente. Anche l'illuminazione di giardini ed edifici può essere automatizzata e controllata con BEGA Control. A seconda delle condizioni di illuminazione rilevate dai sensori di luce, l'illuminazione può essere regolata o accesa, spenta. Queste misure possono scattare anche in seguito a un intervento dei sensori di movimento. L'attivazione di apparecchi può essere programmate in modo personalizzato sulla base della situazione, integrando sistemi di illuminazione per esterni e interni nonché altri dispositivi di automatizzazione di un impianto domestico, come il controllo della climatizzazione e del riscaldamento. BEGA Control è una rete di microcomputer intelligenti che comunicano tra loro tramite conduttori di dati o via radio. Nella selezione delle tecnologie alla base dei prodotti, BEGA ha seguito i severi criteri sui quali si fondano anche la progettazione e la produzione dei nostri apparecchi. Perché anche la tecnologia di controllo presenta luci e ombre. Dopo un'indagine critica del mercato, abbiamo rilevato che alla maggior parte dei fornitori tecnologici consolidati non basta più porsi obiettivi di standard massimi. Per poter garantire il massimo di intelligenza, flessibilità, portata e sicurezza contro le interferenze, nonché facilità di installazione, per BEGA Control abbiamo deciso di utilizzare i bus LCN. LCN significa Local Control Network. Questa tecnologia di controllo è utilizzata con grande successo da oltre 20 anni in progetti di ogni ordine di grandezza, in Germania e all'estero. Si potrebbe affermare che è ormai più che collaudata. BEGA l'ha sviluppata ulteriormente, ottimizzandola per un comando dell'illuminazione intelligente. BEGA Control LCN crea una rete senza centrale, nella quale l'intelligenza è distribuita in maniera tale da consentire ai singoli componenti di prendere decisioni direttamente sul posto. Per collegare tutti i moduli è sufficiente un semplice cavo, quale un conduttore libero di un impianto elettrico. La progettazione, la configurazione e la movimentazione del nostro sistema bus sono molto semplici e consentono di utilizzare, per attività di controllo, fino a 30.000 moduli senza dover impiegare un computer centrale. In assenza di un collegamento di comando o dati a filo, si utilizza il comando funzione ZigBee di BEGA Control, che si basa sullo standard industriale delle reti radio, oggi molto diffuso, e consente di collegare apparecchi su tratti anche di 100 metri. In questo modo è possibile istituire grandi reti di illuminazione in cui tutti gli apparecchi sono collegati tra loro via radio. Un sistema particolarmente sicuro ed esente da interferenze. BEGA Control è di installazione molto semplice e consente di collegare ulteriori automazioni di edifici. BEGA offre percorsi informativi gratuiti per gli elettricisti. BEGA Control può essere programmato e configurato con il nostro sistema software. Inoltre offriamo software per comando, allestimento e visualizzazione di progetti in tutta comodità. La soluzione software può essere applicata anche sui comuni PC Windows e server. BEGA Control è molto semplice e può pertanto essere utilizzato anche da persone sprovviste delle conoscenze specialistiche. Per accedervi bastano un browser internet su un PC fisso mobile, su un tablet o l'applicazione BEGA Control per smartphone. Potrete collegarvi al sistema in tempo reale e ovunque voi siate. BEGA Control può mettere a disposizione una rappresentazione grafica dell'impianto di illuminazione e offre pertanto il massimo della libertà nell'allestimento dell'interfaccia operativa. È pertanto possibile combinare la sezione di un impianto con alcuni simboli ed elementi di testo. BEGA Control consente del resto di configurare separatamente ogni apparecchio a LED dai colori dinamici e di programmare, se lo si desidera, continui cambiamenti del colore. Con BEGA Control architetti, progettisti degli impianti di illuminazione ed elettricisti hanno a disposizione un sistema di comando dell'illuminazione potente e molto convincente per il settore privato e per quello pubblico. I nostri apparecchi stabiliscono da molti anni gli standard per quanto riguarda l'illuminotecnica, la costruzione, la qualità del materiale e la lavorazione. BEGA Control porta avanti questi standard qualitativi elevati nel comando dell'illuminazione e chiaramente vi aiutiamo volentieri nella pianificazione e nella progettazione dei vostri impianti. BEGA Control